Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Vanilla Allora ragazzoli, la scorsa volta avevamo finito la nostra fantastica farm di Enderman Adesso stiamo tenti a non guardare questo tizio qui E devo dire che funziona una meraviglia Infatti veniamo qua e li disintegriamo E poi ci pigliamo un sacco di XP Va bene questa la lasciamo qua, tanto non ci serve Sono tornato al volo a casa per prendere solo dei razzetti Perché li stavo finendo e poi devo smettere anche di utilizzare la spada perché è finita Dobbiamo andare a mettergli Mending Ora per questo episodio in realtà voglio iniziare un piccolo progettino Tanto piove quindi diamo una dormita Stavo dicendo un piccolo progettino molto semplice Vabbè sentivo ancora il rumore della pioggia non ho ben capito perché ma ce ne faremo una ragione Allora il progettino che avevo in mente era finalmente di fare la mia casa Oh c'è l'arcobaleno, bello Quindi una mega villona Il problema sta nel dove farla la villona perché ovviamente non è che abbia così tanto spazio pianeggiante E neanche così tanto spazio non ci posso credere Sulla pianura Tra l'altro devo dire che queste nuvole sono veramente belle da vedere Ora mi faccio altri razzetti giusto per E ora ci guardiamo un attimino il mondo dall'alto Allora Lì dovrebbe crescere il museo quindi in realtà no L'unico spazio che mi rimane qui nei dintorni è lo spazio dell'ex farm di pecore Quindi forse dovremmo espanderci un pochettino perché qui mi sembra brutto fare una mega villona Anche se in realtà ragazzi potrebbe anche starci Nel mentre mi è esplosa una luce La luce non vuole saperne di partire di nuovo Tanto è una luce del cavolo quindi va bene così Ho avvicinato quell'altra e dovrei essere comunque ben illuminato abbastanza Almeno come vedo dallo schermo qui di fianco Quindi dicevo che l'unico posto che ci rimane è farla qui di fianco Oppure di qua in questa zona Però di qua in questa zona Nel senso è di là Dovrei comunque passare il ponte Però avrei molto molto più spazio E poi sarebbe anche sul mare Che non è una cosa da sottovalutare Mentre lì potremmo fare qualcos'altro Cioè alla fine comunque c'è lo spazio anche qui Quindi dobbiamo decidere se farla nella zona A o nella zona B O iniziamo ad espanderci un pochettino E qui poi ci dedicheremo e faremo altre casettine Quindi direi che il posto più facile dove fare la nostra villozza Potrebbe essere benissimo Questo qua Proprio questo qua Subito dopo il bar e oltre il ponte Quindi dovremo iniziare a delimitare la zona Ma prima di delimitare la zona Direi che va fatto un po' di terraforming Perché ovviamente adesso è tutto un po' su e giù il terreno E non saprei neanche a che livello appiattirlo Vediamo un po' qual è la zona più bassa Forse sapete che la farei proprio a livello dell'acqua Cioè nel senso tiriamo giù un bel po' di sabbia, terra, tutto quello che troviamo Da questa zona E qui la farei proprio sul livello dell'acqua Quindi leverei, non lo so, una buona porzione magari qua così E poi ci facciamo un bel muro di contenimento Ma vediamo un attimo come potrebbe venire il tutto Ovviamente sarà un progetto molto lungo che ci occuperà un sacco di episodi Ma tra un episodio e l'altro magari faremo anche qualcosa altro Tipo già qui così forse può bastare Adesso non ho idea di quanto grande io l'abbia fatto Però secondo me a mio avviso possiamo espanderci ancora un pochettino Magari arrivare fin qua E da qua Uscire di nuovo E questo diciamo è il perimetro poi della villa Starci Adesso siamo arrivati giusti sul livello dell'acqua Perfetto Vediamo un attimo dall'alto ragazzi Com'è il perimetro Ma che è successo? Com'è il perimetro? Beh direi che esce una bella villona no? Cioè mi sembra parecchio grande come struttura Bel quadratino Secondo me esce una cosa molto carina Quindi beh inizio un po' ad appiattire ora Allora ragazzuoli è passato un pochettino di tempo Ho levato tutta quanta la pietra che c'era E ho messo della terra sulla pietra L'ho semplicemente cambiata Ora la cosa che dobbiamo andare a fare È delimitare le varie zone che vogliamo utilizzare Per poi costruire la casa Cosa intendo con delimitare? Ovviamente andiamo a definire un pochettino le zone di ciò che vogliamo andare a costruire Quindi direi di tenermi uno, due, tre, quattro, cinque blocchi dal muro Uno, due, tre, quattro, cinque Perfetto Quindi abbiamo questa zona qua Tre, quattro, cinque Ok Non mi ricordavo più se l'avevo fatta a raso Quindi sul quinto oppure no E anche di qua dobbiamo andare a fare i cinque blocchi In questo modo abbiamo sia dello spazio intorno dove poter camminare Tre, quattro, cinque Ok quindi questo qua Sia Più spazio poi per poter andare a lavorare con il nostro muro Ora questa è la zona di costruzione Che, perfetto Che possiamo utilizzare E ora andiamo a delimitare le zone Quindi la cosa che voglio assolutamente fare è dividerla in tre assi Quindi dobbiamo andare a contare quant'è da qua laggiù Uno, due, tre, dieci, undici, dodici, tredici, ventidue, ventitré, ventiquattro Ventiquattro diviso tre Prendiamo la nostra calcolatrice Otto Quindi dovremo avere tre zone da otto blocchi Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Otto anche per di qua Adesso dov'è che l'ho fatta qua? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Ok, quindi queste qua saranno le nostre zone della villa diciamo Su una andremo a farci il terrazzo Su quell'altra invece facciamo due piani molto semplici Mentre sulla terza che sarà poi quella in fondo Potremo fare addirittura tre piani E ora dobbiamo fare anche questa zona qua In realtà potremo farla sempre di otto Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Quindi verrebbe fuori qui Una cosa del genere Adesso dormiamo e vediamo un attimo Adesso non capisco se sono bianchissimi in faccia Ma vabbè non importa Comunque sono sicuramente più illuminato Quindi qua poi sorgerà la nostra villa Quindi abbiamo questo pezzettone che sarà grandissimo Questo un po' meno E qui ha un piano col terrazzo sopra Secondo me può uscire qualcosa di veramente carino Qui davanti abbiamo un grandissimo spazio Che non so come utilizzare Considerando che la porta sarà comunque di uno Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Due, tre, quattro Ho dei blocchi Assolutamente no Fantastico Allora uno, due, tre, quattro Tre, quattro Ok questa qua sarà la nostra porta Quindi segniamola un attimo così E ai lati o facciamo delle finestre o facciamo delle scale Secondo me delle scale lungo questo perimetro potrebbero starci Non so quanto grandi siano ancora Però le segniamo intanto così Solo per far capire che effettivamente qui poi ci andranno le nostre scalettine Poi siccome non dobbiamo farci mancare assolutamente niente Io una piscina la vorrei fare Una piscina che si collega con il mare Quindi facciamo un tre fuori E poi qui gli diamo lo spazio per la piscina Secondo me viene carino E poi qua noi possiamo scendere ad andare in piscina, in mare, dovunque ci pare Bene quindi queste sono più o meno le dimensioni Con diciamo tutto quello che riguarda anche la pianta della casa in sé Ora gli diamo giusto un'occhiata dall'alto Per capire le grandezze meglio E anche come potrebbe venire Magari un po' più in alto ma non troppo Ok Ah secondo me può uscire qualcosa di carino e figo Magari mettiamoci sopra uno di questi alberi E da qua dovrei vedere un po' meglio Eccola lì Secondo me esce qualcosa di mastodontico Ma neanche troppo C'è il giusto alla fine Tutte le mie build qui sono veramente piccoline Quindi fare qualcosa di grande qui Secondo me ci può stare Poi beh dobbiamo pensare anche un attimo Come fare il muro e valutare se fare il muro soprattutto Perché in realtà potremmo anche fare semplicemente la terra che si collega e poi scende Almeno per dietro La piscina forse ragazzi la sposterei un po' più a sinistra Quindi che va di là Oppure che continua direttamente Perché l'entrata lì mi sembra un po' brutto fare quell'angolino Sì andiamo a cambiare questa cosa qui E poi in realtà basta Dovremmo aver fatto più o meno tutto quello che ci serve E possiamo iniziare a mettere giù le prime basi Quindi abbiamo detto qui Perfetto Non volevo spaccare tutto Scusi Bene e ora non resta che andare a farmare 270 miliardi di quarzo Tra l'altro una cosa che mi stavo chiedendo Le mie shulker box Dove cavolo le ho messe Mi sa che le ho lasciate nel deposito Perché qua non ci sono Quindi le devo aver lasciate lì per forza Vabbè Andiamo a recuperarle Mi saranno utili per farmare il quarzo Ehi ma qui non ci sono Ma dove sono? Ma dove le ho lasciate scusa? Ah le ho lasciate nell'end ragazzi È vero ecco dove le ho lasciate Nel mio caro vecchio amico end Comunque qua di quarzo in realtà ne abbiamo un pochettino Non troppo L'unico problema è che non basterà mai E tra l'altro devo farlo pure in blocchi Quindi assolutamente no E l'unica soluzione è farmarlo con i villager Villager che purtroppo mi richiedono una quantità di smeraldi incredibile Quindi tipo lui È uno smeraldo per un blocco di quarzo In realtà non è neanche troppo Pensavo un po' di più sinceramente Quindi mi basterebbe anche farmare qualcosa I villager che vendono quarzo Penso di averne in quantità industriali Perché l'ho farmato praticamente ovunque E invece no Allora solo lui Perché ha la green Esatto Quartz pillar e quartz block Vabbè Niente ragazzi Staremo qui Ci daremo un attimino da fare E via Ce n'è uno per caso che mi vendeva la terracotta nera No Marrone no Perché la terracotta nera in realtà mi sarebbe alquanto utile Dato che io devo fare anche delle parti nere A quanto pare no Dovevo tornare Eccola qua Questa qua potrebbe andare più che bene Quindi possiamo utilizzare questo villager qui Che è comodissimo E via Tra l'altro ci vende pure gli emerald per della stone Che non è assolutamente male Anzi E possiamo dargli anche il granito Quindi potremmo fare anche fuori un po' di granito Tu invece per caso tradi Ah la pelle per degli emerald Mica male Anche lui è buono Allora direi di andare a recuperare Un po' di materiali Perfetto Va bene Andiamo a recuperare un po' di materiali E poi Prendo un bel po' di quarzo E iniziamo a mettere Almeno il primo livello Allora ragazzi L'idea del quarzo Ho fatto questi 32 blocchettini Però ovviamente Sì Non ho gli emerald Quindi devo anche aspettare Che i villager Ripristinino il trade E nel mentre Volevo chiedervi Se vi piace di più Minecraft con le shaders Oppure senza Scrivetemelo nei commenti Bene Tempo di lavare la terra ragazzi E andare a mettere Il legno della giungla Ed ecco qua Finito Tutto quanto Finalmente Il legno È stato messo E infatti Iniziamo già a capire Dove appunto Vanno messi I vari blocchi Ora direi Proseguire mettendo Un pochettino di quarzo Allora io voglio una finestra Che sia tipo alta 2 Penso E poi Possiamo ritornare di qua In In questo modo E direi che Poi facciamo lo strato Senza collegamento Qui lo lasciamo E appunto col vetro E in qua Veniamo così E poi qui Avremmo La chiusura Direi che secondo me Ci può stare Possiamo fare una cosa Sia di qua Che di là Più o meno Nello stesso modo E poi sopra Gli facciamo fare una S Quindi avremo il pilastro qui E qui che viene chiuso Mentre di là ovviamente Non ci sarà Assolutamente niente Tra l'altro Ho appena realizzato Che il quarzo Che noi abbiamo di sotto Non l'ho mica scavato È il quarzo Che ci ha dato Il nostro pigle Gianfranco Quindi Perché non lo volevo utilizzare Allora scusate Ma se di qua stavo salendo E di là salgo pure Come funziona Questo ascensore Al contrario È per forza Quindi io direi di Prendere tutto il quarzo Che abbiamo Rubarlo Perché no Farci Beh Quarantina No Ho fatto i pillar No Va bene Facciamo comunque Non i pillar Non i pillar Voglio il blocco di quarzo Per favore Ho fatto altri pillar No No ok No Ho fatto i blocchi giusti Ok Per un attimo Ho preso un infartino Va bene E poi mi ruberei Anche da qui Lo stone cutter Che sono sicuro Di avere da qualche parte È impossibile Che io non abbia Uno stone cutter Qui dentro Ma questi piedini Ah no ma i piedini Li ho già addosso Non ho uno stone cutter Impossibile Come faccio a non avere Uno stone cutter Questo me lo rubo Dove cavolo è Il mio stone cutter Scusate Ah beh È qui Guarda Bimbo Sei libero Vieni con me La fornace invece La rimettiamo a terra Voilà E ora ragazzi Su di sopra Vabbè i pillar Comunque li utilizzeremo Magari per qualcos'altro Adesso vediamo un po' Swing Allora Stone cutter Quarzo alla mano Eccolo qua E andiamo a finire Almeno La delimitazione Dei vari contorni Quindi qua abbiamo detto In questo modo Sempre in questo modo E poi soprattutto Le facciamo uguali Due s uguali O due s al contrario Due s uguali Così sono a specchio Mi piace Quindi così E poi Dritto di qua Fino qua Perfetto E via di qua Useremo un sacco di quarzo Per questa villa Però ci sta È la villa block Quindi dobbiamo Assolutamente farla Bella grande E bella imponente Bene Questi sono i primi due blocchi Ora vediamo di fare Il blocco sopra Un po' di terra Come appoggio E saliamo Eccoci qua Allora Uno Due E tre direi Perché Anzi Anzi Perché solo tre La sopra Possiamo farla anche più grande Il sotto più piccolo E il sopra leggermente più grande Facciamo così Arriviamo fin qua Ok ci siamo E beh basta Di qua ragazzi Dobbiamo fare così Di nuovo E anche Di qua Perfetto Voglio vedere un attimo Se ci sta il tutto Oppure è una minchiata E Ma in realtà Vi dirò Secondo me ci può stare Forse sapete cosa Non mi piace Il fatto che quello sia Un po' più alto Secondo me Di uno Non ha senso farlo Se erano un po' di più Forse sì Però a sto punto Facciamoli tutti alti Uguali Così Il modulo si ripete Perfetto così Qui abbiamo La nostra S E poi Beh magari aggiungeremo Qualche dettaglino Magari con La clay Scura Che al momento Non ho E ora direi che posso fare Il resto del contorno Della villa Ah ma sei già venuto A farci visita Qualcuno Mi scusi Lei cosa vende Vende qualcosa di utile Ah del ghiaccio Cioè Sei veramente Inutile Guarda Se te ne vai Da casa mia Dato che Insomma Sarebbe anche proprietà privata Lei non è stata invitata Al party Di inizio costruzione Quindi dovrebbe andarsene E nel mente Spero faccia notti in fretta Che voglio dormire Per una volta Che mi porto il letto Quando buildo Vorrei anche dormire Oh grazie Ragazzi Mi sono reso conto Che forse C'è un piccolo problema Tecnico tattico Questo lato qui Lo leviamo Perché poi Diventa tutto Troppo bianco No E tra l'altro Dobbiamo dargli un po' di spessore Quindi questa roba qua La andiamo a togliere Tutta quanta Anche se ho appena finito Il perimetro Ma non importa Semplicemente per il fatto Che poi noi andiamo A costruire sotto Con della clay Ma facendo Così Quindi con Un blocchettino Di distanza O facciamo le finestre da 1 O facciamo le finestre da 2 Questa ancora non lo so Intanto le metto Tutte da 1 Che non abbiamo problemi Questa finisce qua Quindi in realtà Ah da 1 Sembrerebbe starci A meraviglia A parte per Il davanti Che sembra Faccia schifo E dovrebbe stare qua Ma il davanti Possiamo semplicemente Modificarlo A nostro piacimento Levando questo E questo E farlo dritto Perché immagino Non abbia un centro Oppure fare due così Che va bene lo stesso E la stessa cosa Poi viene ripetuta di qua Il pattern È letteralmente uguale E così Gli diamo anche Dello spessore In più A La nostra costruzione Magari qui ragazzi Possiamo fare la cosa in quarzo In questo modo qui E a sto punto In realtà Forse possiamo farle anche qua In quarzo Le colonnine Ok direi che È già meglio E non mi dispiacciono I pillar messi In questo modo Forse andrei a mettere Un pillar anche là in fondo Così almeno Rispettiamo diciamo Il tema Del pillar Sull'angolo Che tra l'altro Andava messo uno Più in qua Poi in realtà Non cambia Perché questi probabilmente Neanche li vedremo In quanto Andremo a metterci poi Le scale davanti Però comunque Ci sta Dietro Dobbiamo un attimo Pensare a come farlo Quindi per ora Non è un nostro problema Anche perché tanto Andrà in alto E questo direi che È un ottimo inizio Adesso lasceremo La terra E la useremo Come blocco di costruzione Dove appunto Andrà la clay Nera E anche sopra Direi di utilizzare Lo stesso metodo Quindi magari Una cosa così E poi fare sempre I nostri pilastrini In questo modo Anche sopra Secondo me Può starci Ora direi Di procedere Mettendo magari Qualche scalettina Adesso Non so Spero bastino Queste Anche se Ne dubito Allora Noi sappiamo Che dobbiamo arrivare Più o meno In questa zona Quindi Voilà Perché poi sotto qua Ci va la porta Giusto Giusto Quindi anche qua In realtà Dovremmo andare a chiudere Più o meno Così In teoria Perché poi lì Ci va appunto La porta Ma la porta Direi di utilizzare Appunto I quartz pillar Dato che abbiamo messo I quartz pillar Ovunque In tutti gli angoli Non vedo perché Non utilizzarle Anche qua Voilà Poi ovviamente Andremo anche a sistemare Perché qua ci metterò Magari delle scalette In alto Adesso vediamo un attimo Ok Allora se noi vogliamo Farla partire da qui Tecnicamente Deve uscire Una cosa così Vediamo quanto Ci serve E Ok Ok Quindi arriviamo così Con uno fuori Secondo me Potrebbe anche andare Qua chiudiamo tutto Qui davanti Beh In realtà Qui potremmo fare Anche tipo Un muro Molto semplice In questo modo Che sale Così chiudiamo Anche questo lato Abbiamo la scala Che arriva su Direi che Può starci Quindi qui Andiamo a chiudere Il tutto In questo modo Quindi questa terra qua A noi non serve più Via E quindi anche questo qua È un attimo Da rivedere Come diciamo Buco Perché io voglio Tipo magari La clay qui La clay di qua E magari Facciamo Le finestre da due Con questo buco qua Voilà Una cosa del genere Potrebbe anche starci E poi ovviamente Faremo la stessa cosa Di là Va bene E abbiamo finito Il quarzo Però direi che Almeno la forma Gliela stiamo dando Lì ci sarà La piscina Direi che A mio parere Può uscire una cosa Molto figa E va bene ragazzi Direi che per questo video È tutto Noi ci vediamo In un prossimo video Dove andremo appunto avanti Con la nostra villona Io vi saluto Ciao Ciao